Vi ho chiesto perché avete paura delle note alte e le vostre risposte sono state queste. Ma i principali punti sono questi. Paura che le note mi escano male. Se non la facciamo male una cosa, non possiamo imparare a farla. Non sapere come farle nel modo giusto. Anch'io prima ero così, ma purtroppo o per fortuna, sbagliando si impara. Se non sbagli davanti a me, che sono la tua insegnante di canto, io non ho neanche modo di capire dove sbagli e come aiutarti. Le note alte non fanno per me? Questa cosa non esiste. Ognuno ha il proprio registro, la propria estensione e ha le proprie note alte. Ho paura di farmi male sbagliando a livello tecnico. Non ci si fa del male subito, generalmente. Magari ti mancherà la voce, magari ti gratterà la gola, magari sentirai la tua gola tutta instabile che fa delle cose strane. Ma non succede niente. Generalmente ci si fa male a livello serio dopo anni e anni di pratiche abusive nei confronti della nostra voce. Morale della favola? Dobbiamo fare schifo per migliorare. Seguimi per altri tips di canto.